...di devozione, ma è un santo anche delle nostre speranze, dei nostri sogni. San Gennaro, ramo tre il numero, San Gennaro mi e tu c'è manato io, perché San Gennaro è il legame di sangue con la città di Napoli. San Gennaro scioglie il sangue, perché San Gennaro nel sangue tiene Napoli. E noi nel sangue teniamo a San Gennaro. E lo dobbiamo amare e lo dobbiamo rispettare, dobbiamo fare in modo che sia rispettato. Il sangue che da Enri De Luca viene raccontato come tellurico, come tarantolato, come sempre un po' arrabbiato. Qua guarda il Vesuvio, dietro di voi, non lo vedete perché ci stanno i palazzi, ma c'è il Vesuvio. Ci protegge, ci protegge dal monte, ci protegge da tutte le cose. E noi lo dobbiamo proteggere. Quindi grazie, grazie a tutti voi. a tutti voi, 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 se vuole dire qualche parola, se vuole salutare. Buonasera. Credo che il modo migliore per ricordare una persona che amava questa zona come Ilaria e mettere il suo nome per sempre in questo restauro così bello, le si aggiunge all'altro restauro così bello. E poi vorrei sottolineare un'altra cosa, che questa è opera della collaborazione tra tanti cittadini che hanno contribuito insieme all'Associazione Due Sirene con il crowdfunding, alla collaborazione tra istituzioni come la sovrintendenza e il Comune. ed è la lotta quotidiana in questa città tra chi vuole recuperare attraverso piccole azioni la bellezza di Napoli e chi la vuole violentare ogni giorno. Non è una battaglia facile, basta girarci attorno e vedere le cose belle e le cose brutte. È una scelta che bisogna fare ogni giorno quando ci svegliamo la mattina. È molto complicato, è molto difficile, è un fatto di passione e di amore. Io credo che a Napoli tanta gente non si accontenta più di avere le mani in tasca ma le vuole mettere in movimento e se le vuole sporcare per le cose è bello. Con coraggio e con onestà. Io vorrei ringraziare Valeria anche per le parole molto belle che ha detto sul legame così forte tra il sangue, come è stato definito stamattina in cattedrale, di un santo che amava stare tra il suo popolo, tra la gente. Non delegate, non deleghiamo più, ognuno con le sue responsabilità. Ovviamente alcuni hanno più responsabilità e si devono prendere. Ma ognuno di noi è protagonista del nostro destino. Nessuno ci aiuterà da fuori. Saremo noi, napoletani, nei nostri borghi, nei nostri vicoli, nei nostri quartieri a riprenderci mano a mano la nostra città. È una battaglia complicatissima ma noi ci crediamo altrimenti non staremmo qua. Grazie e buona serata a tutti. Grazie!